Gli spinacci per il verde, il concentrato di pomodoro per il rosso. Nasce così il tricolore nel piatto realizzato dagli studenti nel laboratorio di cucina dell'Istituto Alberghiero di Cortina. Oggi abbiamo questi gnocchi tricolori, proprio in onore del 150esimo dell'Unità d'Italia. Un modo per portare anche nel piatto questo importante appuntamento nazionale. E' proprio un argomento attuale in questi anni da sottolinearlo ogni giorno e quindi è un punto importante della nostra formazione. Non si litiga per il cibo? Assolutamente no, anzi dovrebbe unire a tavola intorno a un piatto, si concludono sempre tante cose positive. Da parte dei docenti un insegnamento in più sulla ricchezza, sulla varietà della cucina italiana, sulla cultura di una nazione. La scuola è anche formazione e anche a ricordo di queste cose, indipendentemente da tutto. I ragazzi mi hanno subito detto ma sì, sono i colori della bandiera italiana e questo è molto importante, insomma al di là della bontà della preparazione. Il cibo unisce l'Italia. Qua a scuola ci insegnano cibi di diversi stati, regioni e di altri paesi, quindi potrei dire che ci uniamo agli altri. Questa festività ci dà modo di unire il cibo all'Italia.